Siamo i tre remagi, che non vi dà l'Oriente a conquistare la gente in questa sera. Abbiamo molto cavalcato, seguitando la gran stella, la quale portano bella e del Signore. Questa piazza sia la pace di allegrezza e sanità, la roba e quantità di Madre Maria. Signore che ringraziamo delle grazie e dei valori, insieme col Signore la buona notte. Insieme col Signore la buona notte. Insieme col Signore la buona notte.